Ehi, guarda! Una cascata di latte Vex! Non possiamo... Lascia stare. Ehi, guarda! 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 Lì dal tuo centro dati, non mi consigli su come abbattere uno scudo energetico? La barriera è attiva grazie alle strutture Vex circostanti. Ehi, guarda! Ehi, guarda! Ehi, guarda! Secondo le comunicazioni radio, vogliono costruire più armi? Ehi, guarda! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.